Musica Bella a tutti ragazzi sono Zanzo Bentornati sul mio canale Finalmente siamo tornati nella serie che tanto aspettavate Ovvero la Spacecraft in compagnia di Marcus Krohn Bentrovati È sempre colpa mia Mi si è affattuto il computer giuro In realtà c'era Zanzo che mi scriveva quando registriamo C'è stato questo imprevisto Però ragazzi non preoccupatevi La Spacecraft non mancherà finché non finiremo Almeno tutto il quest book Poi vediamo un attimo cosa verrà fuori Episodio numero 10 Allora io ti ricordi avevo promesso uno smistamento Però ho detto Non lo so non mi hanno convinto i commenti Nel senso non erano tutti concordi Quindi ho pensato ad altro Ho pensato più a renderti una magia moddata Allora facciamo così Un passo alla volta Lo smistamento automatico lo volete? Cioè volete vederlo o lo volete già Senza praticamente spiegare come funziona Sì no Comparerà adesso qua in alto nelle schede Un sondaggio Votate Sì se volete Vedere nel prossimo episodio Nei prossimi episodi Lo smistamento automatico E moddato scusate Se invece votate no Quindi c'era una percentuale più alta di no Lo costruiremo ma senza farvi vedere Come si costruisce Allora io prima di tutto C'era una cosa che mi mancava Ed era il mob grinder Quello che tu fai in Minecraft Questo blocco gigante Senti l'estetica non fa per me Però il risultato è buono Non so se vuoi vedere Se puoi entrare a vedere Non so se può essere pericoloso Ah questa qua è la cesta Quella che mi dicevi nei primi video Ti ricordi che dicevi? Questo è il super cestone Eh qua ci sono le ceste Se la fai di diamante Ti tiene tipo un sacco di spazio Ok È bellissimo Tra l'altro ho dato pure delle cose Che non conosco Perché vedi che ci stanno Fish and rice Credo che si mangi questa roba Non lo so Ah guarda se vuoi guardare dentro In pratica è come il mob grinder Quello vanilla Soltanto invece di Dell'acqua che esce Per spingere i mob Ci sono le nostre Quello che avevamo visto Anche l'altra volta Perfetto Perché l'altra volta purtroppo Eravamo troppo vicini Sì E quindi non sponavano i mob Ah ok Quindi hai tolto il mega torcione Che c'era dentro casa Quindi quando è notte Non conviene uscire Però quando è giorno Ah Gli mob sponano soltanto qua dentro Se noi stiamo lontano Esatto E tra l'altro Come puoi vedere Ci sono finalmente delle underpearl Underpearl che ci servono Tantissimissimo Perché io a te Voglio farti vedere Un sacco di commenti In un sacco di commenti L'ho vista sta cosa Sì Perché noi siamo qui Su Sulla luna In una situazione di privazione Ma Ok La magia del moddato È più grande Ok È più Si rivela in spazi più abierti Quindi adesso voglio Farti vedere qua dentro Mi mangio una Una mela Qui ho preparato una stanzina Ok E Ti faccio vedere Innanzitutto questo blocco qua Se tu premi spazio Ah Eh Ah cos'è il teletrasporto? Sì Sì È un elevator Io ho fatto Perché craftarli È noiosissimo Questi cosi qui Questi sono Se vuoi piazzarli tu Io La piazzo così Dritta per dritta Ma sì Ma lei veda come viene What? Ah cos'è non è piazzato giusto Però mi sa Vedi che l'ingresso è di qua Questi qui Se ci clicchi sopra Ti dice che producono 38 RF Che ti ricorda La resta on flux Sì Che è l'equivalente Dell'energia Esatto Esatto E sono advanced Nel senso che Quelli non advanced Non si muove La calotta sopra Ok Quindi producono sempre un tot Invece questi qui diciamo Seguono il sole Tipo girasoli Ottimo 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 Allora il crafting di questi ragazzi Si fa come abbiamo fatto Praticamente il razzo Solo che è Molto noioso Io ve l'ho evitato Aspetta Voglio vederlo Vediamo Facciamo Advanced Vai a vedere Advanced Solar Planet Servono Allora i compressed steel Che sono easy da trovare Quelli sono easy Le heavy aluminum wire Mi sa che tipo i più lunghi Sono la steel pole E il full solar panel Madono Bravissimo No Minchia Ma che sbatti Esatto Un sacco di robe Vabbè presto ti farò fare L'autocrafting E vedrai Allora questa corrente Finisce dentro Il nostro La nostra capacitor bank Che è questa cosa qua Se ci clicchi sopra Ti fa vedere Quanta corrente C'ha dentro Quanta ne sta entrando Sì E un totale Lui ci apporterebbe Può portare 5 milioni 5 mila 5 mila 5 mila dice Quello piccolino Ah ok 5 mila dice Max in input 5 mila Max in output 5 mila Da questa partono Questi cavi qui Che ben presto Dovranno rifornire Un oggetto Ok Però ti voglio far craftare Che serve a Teletrasportarsi Tra i luoghi E le dimensioni Bellissimo E che è quello È tipo il teletrasporto Di Star Trek È tipo il teletrasporto Bravissimo Tra l'altro fa anche Il fascio di luce Vedi è bellissimo Bellissimo Voglio andare adesso Allora Ti voglio Ti voglio far Io ragazzi Cerco di fare Crafting Di farli fare a zanzo Perché comunque Deve un pochino Vedere E poi soprattutto Almeno chi Non ne sa di moddato Come me Può vedere Il crafting Qual è Se scrivi matter Matter Sulla Sulla nei Ok Provi due cosini Che hanno un ciccetto Lampeggiante Uno blu Ok Matter transmitter E matter receiver Praticamente Il transmitter Serve per trasmetterti Ok Il receiver Per ricevere Esatto Io adesso Ti tiro fuori Ti dovrei dare Ti dovrei aver dato Dietro le spalle Tutto il materiale Vediamo se mi ricordo Come funziona Perfetto Qua c'è Tre ender perle Questo 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 Ottimo Quindi io clicco sopra qua E faccio R Tac Due quindi ne faccio Uno due Fatti Di transmitter Mentre di receiver Uno e uno due Ok Allora diciamo che non sono Dispendiosissimi Almeno che il machine frame Non occupi No no Il machine frame Sono Quattro gold Di Golden di oro Ok Nuggets Sorry Sì E quattro lapislazzuli Matter receiver E matter transmitter Fatti Ne ho due e due Ok perfetto Allora se li vuoi mettere Sì Li vuoi mettere dove Dove vuoi Cioè nel senso Ma sopra questi Cosi Sì sopra i cavi Due Devo mettere giù No vi metti uno di quelli blu E uno di quelli Uno di quelli Un transmitter E un receiver Ok quindi ipoteticamente Potremmo fare Allora mettiamo giù Un transmitter Qua Perfetto Un receiver Qua E qui ci va Questo qui Che ho fatto io Sì Che in pratica È una sorta di controller Di Dialing Dialing device Dialing device Esatto Allora tu gli puoi dare un nome Il transmitter Il nome migliore Che puoi dargli È dove ti vuole trasmettere Quindi Marte Vibe Abbiamo fatto Marte Facciamo Marte E invece devi fare la stessa cosa Per il receiver Che però è quello che Arriverà qua Quindi terra No luna Quindi luna Luna Magari terra Luna Ok D'accordo Allora normalmente Con il device Se tu ci attacchi Se tu ci clicchi Puoi linkare Un receiver A un transmitter Clicco su Marte Poi clicco su luna Faccio dial Ok Transmitted blockade Mi dice Perché Perché stai Nella stessa dimensione Ottimo Cioè non ti ci fa Teletrasportare Allora noi che cosa facciamo adesso Noi andiamo su Marte Sì Mi segui Sì Li piazziamo giù anche là Facciamo la stessa identica Bravissimo Facciamo la stessa identica cosa Così Prendiamo il Rocket Sì E lo utilizzeremo Per nuove esplorazioni Ma ogni volta che noi Vogliamo andare su Marte Per fare qualcosa Ci abbiamo il teletrasporto Perfetto Quindi il rocket Lo utilizzeremo solo Per andare in altri pianeti In altri pianeti Ottimo Esatto E stavolta Che abbiamo le Ender Pearl Ci portiamo altri due di questi Ogni volta che andiamo su un pianeta Sì Così non dobbiamo rifare ogni volta Ottimo Appena arriviamo Subito Facciamo una casetta Mettiamo giù Qualche solar panel Capito E abbiamo il teletrasporto Tu immagina questa stanza Che diventa Una stanza di teletrasporti Per tutto il sistema Mettiamo giù Si può mettere giù Tipo i cartelli Fare le cose fatte Cioè volendo potremmo fare Anche questo qua Poi ci penso io Tipo non so Questa qua che è la zona di Marte Con i blocchi Esatto Esatto Ci sta Ci sta Però Visto che andare così Su Marte E basta Solo per farti teletrasporto Non mi sembra Molto Molto Una pro C'è un altro oggettino Tra l'altro di questa mod qua Che si chiama RF Tools Quindi strumenti Che vanno all'elettricità Modato Che ti voglio far fare Quello che ti volevo far fare È il quarry Si E il quarry In Minecraft moddato È una cosa Che scava Al posto tuo Ok Ma che scava nel senso Distrogge porzioni di mondo Scritto quarry No 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 Il quarry è generico In questo caso si chiama Builder Perché puoi trasformarlo Serve sia per costruire Che per scavare Il builder Builder block Ti do I brick Ah i brick Una enderferm Il machine frame Ce l'ho già E un ender Eccolo qua Facile facile Vedi nel momento in cui Si sbloccano le ender pearl Si Si possono fare un sacco di cose C'hai molte più cose a disposizione Uno ne faccio solo giusto? Yes Yes Ok Oli one canob Cos'è successo? È esplosso No ce l'ho Builder block Ok Perfetto Allora io adesso direi Che il signor zanzo Può tornare su marte Ok Quindi vado da solo? Eh ma si la seguo dai Ah ok In realtà sarebbe bellissimo Farti Darti le indicazioni Per farti fare Dai 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 Facciamo così Facciamo così Vuoi fare così? Allora ferma ti aspetta Ti devo dar tutto Non te ne andare Allora Ti do i cavi Per portare l'energia Ok Io ho il matter transmitter Matter receiver E il builder block Per adesso e basta Ok io ti do Un altro dealing device Ti do una capacitor bank Che è già piena di energia Ok Ti do i solar panel E basta direi Speriamo di non sbagliarci ragazzi Però viene una figata Ok Ricordati di farlo dentro casa Perché sta rio anche per te E poi esplode Ok Dai Ci sei Vado? Ragazzi zanzo da solo Devo premere shift per partire Devi prendere spazio due volte Ok Perfetto Hai controllato se c'avevi le L'ossigeno L'ossigeno buono Cioè tanto ossigeno Ni Ok Ma al massimo torno indietro dai Ma si Un pochettino Diciamo un quarto Perché si vedo così Mi vedo Ok no A questo Tornato lo stavo dicendo Ho un quarto di una E più di metà dell'altra Ma perché sono rimasto qua? Cosa è successo? Si è buggato tutto È partito senza di me WTF Perché? Ragazzi che cosa è successo? È la prima volta che lo vedo Si è andato il razzo senza di me Infame Ma non è che hai premuto spazio due volte Oppure hai premuto shift Per guardare l'inventario No io ho premuto spazio due volte E poi ho cliccato sulla golden bag on holding Forse per quella Eh forse non gli Forse gli rompe il cazzo Aspetta che si carica Ma non è già pronto per andare Troppo tardi Too late Non so se gli hai messo abbastanza carburante Ce la facciamo dai Bisogna essere rotto Sennò torno indietro dai Ok ci sono Vado su Mars Io sono qui che ti seguo Devo fare click again to zoom Però ok Mi ha zoomato dentro Vabbè Launch Non ci devo fare Sto atterrando Ah ma sono il pallone Posso rimbalzare tanto Si 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 Puoi rimbalzare Ok qua c'è un altro balloon C'è un altro ancora Mille balloon ci sono Eccoli sono tutti i balloon In cui siamo andati No zio E' notte C'è pieno di gente Ce l'hai una spadina Si 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 ma è pieno di gente Ma l'importante è che riesci ad arrivare dentro casa Vediamo qua dentro c'è qualcosa Nel balloon No però devo recuperare il razzo almeno Ok ho recuperato il razzo e la piattaforma Via Perfetto Corro verso casa Ok Tanto se è notte Non ti conviene mettere i pannelli solari Perché non producono Usa l'energia che sta dentro la L'energy bank Oh sono quanti ragni Oh Ragni di merda Sono quasi dentro Sono quasi dentro Sono quasi dentro Ok sono dentro a casa Guarda ci sono Zarkron e Manzo Lo sai che potremmo ritele trasportarli a casa Meno male Ascolti le mie indicazioni Allora aspetti un attimo Facciamo una cosa Mettiamo il razzo qua dentro E la piattaforma qua dentro Ok Perfetto Allora prima cosa Si Piazzi l'energy bank Che è quel quadrato verdastro E' quello che si chiama capacitor bank Bravissimo A sinistra ci deve essere dello spazio O fa niente anche se non c'è spazio No Fa niente Ok Messo giù In realtà quel blocco manda L'energia che c'ha In tutte le direzioni Su tutte le facce Ottimo Per praticità ti dico Metti il cavetto che ti ho dato Quello Quello russo Yes Lo metti a destra Messo Ok E fai una fila Cioè oppure no Oppure non lo so Di quanti Di quanti Almeno di tre Perché devi mettere le tre cosine di cui prima Ah ma quindi devo metterlo sotto Anche volendo Ti sto facendo Ti sto facendo la cosa semplificata Se vuoi allora scava sotto di uno Si si scavo sotto Scavo sotto Ma qua sono dei professionisti oramai Va bene Va bene Faccio partire il cavo da sotto Tac Ok Ne ho piazzati Per adesso Uno Due Tre Ne piazza ancora uno per sicurezza Ma si Adesso Li indichi col cursore Mi dica che cosa legge in alto In alto In alto mi dice Energy Conduit 0640 Allora Visto che non ha energia Lei deve andare Deve cliccare sul Capacitor Bank Si Rotellina in basso a destra Ok Abbassare lo sguardo Ok E sul lato inferiore Si Col tasto destro Cliccare fino a quando Non vede una freccia rossa Output Perfetto Perfetto Messo Adesso se riguarda il cavo Dovrebbe iniziare a vedere Della corrente Si 640 640 640 Lei sta una favola Vado avanti Sono fantastico Ok Adesso piazzo giù Quei rovi là Piazzo giù Quei due rovi là Fai Allora Facciamo così Quindi prendo Transmitter 1 Receiver 2 E il dialing device De mettere in mezzo Quindi è Transmitter Pam Receiver Pam Device Oppa la light Messo Adesso Transmitter Ci clicco sopra col destro E dico luna Giusto? Metti però Che ti fa capire Che ritorni sulla luna Quindi che ne so Luna Ritorno luna Oppure Luna Tra parentesi Ritorno Ok L'altro Cosa scrivo? Matter Marte arrivo Marte arrivo Perfetto Adesso clicco sul Dealing device Perfetto E faccio Luna ritorno Luna ritorno Che è il tuo Transmitter Sì Con Con luna Basta Che è il tuo Che è il mio Receiver Esatto E faccio dial Fai dial Dial ok Ok Si è acceso Un Un raggio Si 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 Entri dentro Quello verde E non devo fare la stessa cosa Anche su quello di Marte Quello di Marte Lo faccio io Perché sto di qua Ah Quindi entro quello verde Entri dentro quello verde Start Teleportation Boom Si 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 10 10 e lode Cioè era una cosa semplicissima Però ce l'ho fatta raga Senza far danni 10 e lode E adesso linki questo qui Ok Quindi faccio Marte a Marte arrivo Marte a Marte arrivo Dai dial Dial ok Adesso puoi andare Vieni che te amico Sì arrivo Vieni Si Funziona Eccolo E dai Allora io direi di concludere col cuore Vai Col super scavator Col builder Yes Allora il builder di per cento Non è un cuore È un builder Come dice la parola Nel senso che Tu gli puoi dare Delle forme Si E lui E poi gli dai i materiali Con una cesta sopra di lui Ottimo E lui te le costruisce Quindi se tu vuoi un enorme Prisma esagonale Si Cos'è successo Mi sono teletrasportato Per sbaglio Esatto Tu ci metti dentro il blocco In cui vuoi che lui costruisca E te lo costruisci E' un po' tipo Il world edit Si 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 Soltanto mi è considerato Tu dici voglio una sfera Di raggio 10 Clicchi con l'ascia di legno E ti piazza la sfera Di raggio 10 L'unica differenza E' che tu I materiali ce li devi avere qui Perché stiamo Le mode comunque sono Per il survival Si anche il world edit C'è in creativa Clicco dentro Ci devo mettere dentro Lo shape card E' sicuramente complicato Madonna Allora copy Movie blocks make sound Support preview mode disabled Entities are not moved Do a single run and stop Madonna Ma che cavolo è Ah si C'è anche l'opzione In cui ti copia Una cosa E te la ricrea Shift tasto destro Se ce l'hai in mano You cannot do this On a builder No scusa Su un blocco vuoto Non per terra Ah ok Così Perfetto Solid box Dice 20 98 Perché lui scaverà 98 è l'altezza Ok Ora ti basta Metterla qui dentro E lui scava Tutto intorno 20 per 20 Fino all'altezza di 98 Ma anche Fino in profondità No Si si Però 20 per 20 fa 20 per 20 Ok Se tu clicchi Questa ciambellina Lui ti fa vedere Dove andrà a scavare Adesso ti faccio vedere Ok Rompendo Lo rifaccio Questa qui è l'area Piano piano In cui lui farà il buco Ok Se tiri la leva Lui parte E vai a vedere dentro la cesta Guarda quanto è veloce Cos'è What? Ma scava solo in là Scava No 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 Questo qui è solo quello che vedi Poi scava 20 per 20 Vedi guarda qui è già fatto il buco Ma scusa Perché verso di là Non ha scavato C'è verso il dietro Perché gli ho detto Che come spigolo del prisma Doveva essere lui il buco Ah ok ok E se noti Io non so se tu vedi qua sotto Perché io non vedo assolutamente niente Ah ok Io si vedo 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 che si sta togliendo i blocchi Guarda guarda Vieni sotto No no vedo 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 E tieni conto Che adesso va lento Va lento? Si va lento adesso E quindi la prossima puntata Io direi Pensiamo a un metodo Per far tornare I nostri pet Qui sulla luna Si 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 E a sto punto reattorano Oppure potremmo Portarli Tutti e due qua E trovarne in futuro Un altro Che sarà il nostro protettore Là su Marte Ah lo lasciamo Come custode Della casa di io su Marte Dai eh Perfetto ragazzi Questo decimo episodio Della spacecraft Termina qua Finalmente abbiamo costruito Un metodo Molto più rapido Per passare Da un pianeta all'altro In questo momento Solo tra la luna E Marte E il nostro Marcus Per sbaglio È entrato in quel portale Nel momento in cui Stavo facendo l'outro E adesso dovrebbe tornare Credo Però c'è un problema Signor Zan Non c'è energia È notte E non c'è energia Ah vabbè Fa niente Siamo divisi Siamo divisi Fisicamente Ma spiritualmente Siamo vicini Siamo vicini Appena viene il giorno Torniamo insieme Chissà che fine Avrà fatto quel famoso razzo Durante questo episodio Chissà dov'è Buttato per terra Abbandonandomi sulla luna Mentre lui se n'è andato Non lo so Ragazzi Per questo grande ritorno Superiamo i 3000 like Passate dal canale di Marcus Che trovate in descrizione E andate a vedere Anche le sue serie moddate Magari partite dalle più soft Non andate subito Su quella Tipo con le magie Quelle robe lì Che io ho provato a guardare una volta In una live Mi è venuto mal di testa Dopo dieci minuti Perché c'è un miliardo di robe Quindi partite da quelle un po' più soft Lasciate un commento Scrivendomi cosa ve ne pare Di questo episodio Cosa vorreste vedere Nei prossimi episodi Votate il sondaggio Mi raccomando Per farci sapere Se volete vedere Un video dedicato Allo smistamento moddato Altrimenti ve lo facciamo Trovar già pronto Eccolo È tornato Vedi sei tornato Bravo bravo 30 ref a volta Però ce l'ho fatto Con il potere del sole Perfetto ragazzi Quindi ricapitolando Bel mi piace Supremo di 3.000 like Commento Passate in descrizione Tutti i miei social Trovate anche il canale di Marcus Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Qui da Zanzo E Marcus È tutto Un bel saluto Ciao ragazzi Ciao a tutti Perla